Mi sveglio e già stanno al cammino, ti scatto una foto e sorridi, lo so che non ti va, lo so ma lo fanno tutti, produci i consumi Tempo reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini Tempo reale Ed è passata anche la festa dei lavoratori, ci resta solo il 2 giugno Vabbè poi c'è... Cosa? C'è Ferragosto E vabbè effettivamente c'è chi va avanti di feste comandate Andrea Polazzi, buongiorno a te Buongiorno a tutti, ma dopo ci sono le ferie, ci sono le vacanze, c'è l'estate, c'è la fine dei programmi C'è la fine E poi c'è tanta politica in questo mese di maggio Quindi questo dovrebbe consolarvi? Ti deve consolarvi perché so che ti piace Sì, viva e viva Non ti piace? Allora buongiorno a tutti, bentrovati, buon inizio maggio A tutti coloro che sono in ascolto e chiaramente anche di fronte ad un video Noi siamo quelli di Tempo reale Ti sei presentato? No Non ti sei presentato? No, speravo che la gente si dimenticasse Sì, è Andrea Polazzi E lei è? Devi dirlo tu Ah, Simona Mulazzani, sì Sì, ma scusate No, ma è perché ti conoscono tutti Avevamo deciso prima di iniziare che facevamo così questa mattina No, ma che tanto sei famosa Eh sì, infatti Allora, volete stare con noi in questa mattinata? Che è un po' sì, giovedì, 2 maggio, finite le feste, ma in realtà è già giovedì Quindi uno già vede il fine settimana vicinissimo se ha la fortuna di non lavorare Quindi, 3-3-7-5-1-1-3-3-7 Questa boccina da grillo parlante pensi di averla per tutta la mattinata, per tutta la settimana, per tutto il mese? No No Un ponte di un mese sarebbe lungo Un ponte di un mese Però Non sei mai salso Non sei mai salso Cosa hai fatto ieri? Ma cosa ti interessa? Non ti interessa a nessuno Continua a dare i nostri contatti, dai No, cosa hai fatto per essere così questa mattina? 3-3-7-5-1-3-3-6 Lo ripeto, perché altrimenti 3-3-7-5-1-1-3-3-6 Questo è il numero per i vostri sms e whatsapp Se ci volete raggiungere Così come potete farlo attraverso la nostra pagina facebook di Tempo Reale Dove salutiamo Balder, Irene e Gianni Buongiorno a tutti voi Buongiorno, buongiorno Siate consolatori nei confronti di Andrea Ma no, ma io sto bene Scriveteli qualcosa che possa Così rasserenare la sua giornata Ma io sono sereno Sei sereno, non sembra Però si stanno meglio a caldo Io lo so Andrea, cosa si può fare? Quando arriverai alla meritata pensione Eh, ma sai che la nostra generazione che ha la pensione non arriverà mai Lo so, piano piano alla fine, vedi passano gli anni Pensi ai tempi delle baby pensione Quelli che hanno distrutto il bilancio Stefano, buongiorno Buongiorno, noi qui stamattina avremo la nostra solita oretta anche per questioni di palinsesto giornaliero Non ci sarà, io ne ho lette cose perché Stefano Rossini non ci sarà questa mattina Per cui insomma vi accontenterete di noi e poi vi faccio cose vedo gente Che partirà subito dopo o nell'arco di pochi minuti Quindi visto che abbiamo poco tempo iniziamo subito Diciamo da subito che ci siamo, sentiamo un po' spogli questa mattina perché non ci sono i giornali Eh sì Chi ci ha cercato anche questa mattina alle sette e mezza per la nostra tradizionale rassegna stampa È rimasto un po' deluso ma semplicemente perché non c'eravamo Si sarà rassegnato Perché non ci sono i giornali, quindi non c'è nulla da leggere Quindi quello che c'è da raccontare ve lo raccontiamo noi a tempo reale Io direi partiamo dalla cronaca Che ieri è stata l'unica notizia praticamente che è arrivata Che mi ha anche un po' amareggiato Per cui preferirei che la leggessi tu Ah sì? Sì perché diciamo di queste storie di violenza Che innescano poi anche una serie di questioni, di domande E soprattutto però danno la possibilità anche di attivare il codice rosso Che adesso effettivamente ha anche delle procedure più semplici per le donne vittime di violenza Però poi ascolti alcune cose, leggi alcune cose Insomma fai fatica a festeggiare il primo maggio L'ha colpita con un martello e le ha staccato una parte di orecchio I carabinieri sono alla ricerca di un quarantenne di San Mauro Pascoli Dopo la violenta aggressione alla moglie che è stata ricoverata al Bufalini di Cesena Dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate al padiglione auricolare I sanitari sono intervenuti il 25 aprile dopo la segnalazione da parte dei vicini Che hanno sentito la furentelite Dopo gli schiaffi e il morso l'uomo avrebbe colpito la donna in testa con un martello E' scattato il codice rosso, sono stati allertati i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima Il quarantenne che ancora non è stato rintracciato almeno alla giornata di ieri Dovrà rispondere di tentato, omicidio e lesioni aggravate Passano queste poche righe Esatto, molto sintetico, molto essenziale ma mi pare che sia tutto molto purtroppo chiaro Invece vogliamo passare ad altri temi, magari all'invito del Vescovo rivolto non più tardi di un paio di giorni fa Riguardante l'intero mese di maggio Proprio così, ieri è iniziato il mese di maggio Chiaramente il primo maggio ha questa valenza importante legata al lavoro Si è celebrato, si è festeggiato ma si è anche spiegato come dovrebbe essere il lavoro e la dignità del lavoro Ci sono state tante manifestazioni in giro per l'Italia e anche sul nostro territorio Però diciamo che l'intero mese di maggio è invece un mese soprattutto per chi è credente Dedicato ad una preghiera in particolare che è la preghiera dedicata a Maria Ieri vi abbiamo proposto in diretta e tanto sono arrivati anche la gratitudine di tanti gruppi Di tante persone che non riuscivano ad uscire di casa e hanno vissuto grazie alla TV e alla radio Questo momento insieme al rosario che proprio il Vescovo Nicolò ha voluto celebrare, vivere insieme Alla comunità diocesana in Basilica Cattedrale alle 17 E proprio per rilanciare questo momento ma in realtà rilanciare la preghiera del rosario Per tutto il mese di maggio con questa intenzione particolare per la pace Il nostro Vescovo ha fatto un breve messaggio che vi facciamo sentire Siamo all'inizio del mese di maggio Un mese che nella tradizione vivente della Chiesa è da sempre dedicato alla preghiera alla Beata Vergine Maria In effetti nelle nostre comunità cristiane, nelle parrocchie ma anche nelle case Anche a livello personale la preghiera a Maria è più abbondante del solito Il Santo Rosario e tante altre devozioni Io vorrei chiedere a tutti, cominciando da me stesso, che questo mese di maggio sia un mese dedicato anche alla preghiera per la pace Ecco, chiedere alla Madonna di, in un certo qual modo, di intervenire nella vita, nei pensieri, di toccare il cuore di tante persone che hanno delle responsabilità Siamo tutti terribilmente toccati e sconvolti da questa perdita di vita umane Decine di migliaia in Ucraina, in Russia, in Terra Santa, in tanti altri luoghi del mondo Ma questo numero così grande credo che debba essere aumentato da tutte le vite che potrebbero essere salvate con i soldi che sono stati sprecati negli armamenti I miliardi e miliardi di euro che potevano andare a colmare e a salvare tante persone e bambini anche che soffrono per la fame e per le malattie Allora, insomma, io invito tutti a intensificare questa preghiera alla Madonna perché veramente qualcosa succede Noi siamo convinti che la Vergine Maria bloccherà, bloccherà, stimolerà anche tante intenzioni malvagie che invece purtroppo potrebbero essere la nostra umanità Buona preghiera e buon mese di maggio a tutti Questo l'invito del nostro Vescovo per vivere al meglio questo mese di maggio Poi torneremo a parlare anche del lavoro perché proprio su iniziativa della diocesi c'è stato un bel appuntamento nei giorni scorsi Però Andrea mi concentrerei sulla notizia che ti è particolarmente cara perché l'hai affrontata tante volte Ben che tu non gestisca spiagge No, non ci vado neanche più di tanto Esatto, ma ti piacerebbe avere una spiaggia? No Cioè essere un operatore balneare non ci ha mai pensato No, ciò proprio non mi piacerebbe Non ti piacerebbe Dovrei stare al mare per troppo tempo, io ho un limite Diciamo che ci sono tanti riminesi che avrebbero il desiderio di gestire una spiaggia Anche tanti ricionesi Anche riminesi intesi come Ah, stavolta Nel nostro territorio provinciale Di solito fai sempre distinto Ebbene sì E quindi diciamo che se si capisce poco si continua a capire ancora meno Non ci sono novità Però diciamo che l'ultima sentenza del Consiglio di Stato Che non fa altro che ribadire quello che aveva già detto Per cui il Consiglio di Stato è uniforme, è coerente con quello che ha sempre detto Però diciamo che quello che è accaduto il 30 aprile, quindi proprio un paio di giorni fa Nuovamente ha messo sotto i riflettori la questione mai sopita della Bolle Allora io leggo quello che tu hai scritto Quello che ho scritto io? Sì Va bene Non hai scritto te? No Sì No? Chi l'ha scritto? Io non l'ho scritto Comunque il Consiglio di Stato in una sentenza depositata un paio di giorni fa Ha ribadito il concetto Vale a dire le concessioni demaniali sono scadute il 31 dicembre 2023 Qualsiasi proroga che ci sia stata da lì in avanti non è assolutamente applicabile E quindi si chiede agli organismi competenti di disapplicare E di fatto il Consiglio di Stato dice non ci sono attualmente concessionari che abbiano titolo di stare sulle spiagge Tra l'altro in una sentenza che è un pochino più dura se vogliamo usare questo termine rispetto alle precedenti Perché si dice in sostanza che gli arenili sono un bene scarso In quanto tale assoggettabili alla Bolkenstein Che è invece la teoria opposta rispetto a quella sancita attualmente dalla mappatura effettuata dal governo E dalla linea che il governo vorrebbe portare avanti, vuole portare avanti con l'Europa Tanto che diciamo che il clima da campagna elettorale non aiuta a capirci di più in questa situazione Ma ieri tanti esponenti governativi hanno ripetutamente detto che il Consiglio di Stato non può smentire quello che il governo ha fatto Vale a dire se noi abbiamo fatto una mappatura, loro dicono accurata che dice questo Con che elementi viene detto che questa mappatura non è valida Questa è insomma più o meno la posizione di alcuni esponenti del governo che ieri sono intervenuti su questa sentenza Ovviamente è diversa la posizione di chi da tempo sta portando avanti la linea della scadenza al 31 dicembre 2023 Vale a dire il presidente del CONAMAL, il Comitato Nazionale Mare Libero che è l'avvocato riminese Roberto Biagini Che a questo punto richiama nuovamente all'ordine dal suo punto di vista anche gli enti locali, anche le forze dell'ordine Perché se nessuno ha titolo valido per stare sulla spiaggia, quel che c'è sulla spiaggia adesso è chi andrà in qualche modo a chiedere del denaro Perolettini, ombrellone e quant'altro lo fa senza averne titolo, questa è insomma la sua posizione in sostanza Parallelamente a questa sentenza un pochino meno pubblicizzata, almeno mi sembra È stata un'altra ordinanza invece del Consiglio di Stato che è stata pubblicata allo stesso giorno dalla stessa sezione del Consiglio Che ha lasciato uno spiraglio invece sul tema degli indennizi ai concessionari uscenti In questo caso i giudici hanno ritenuto opportuno attendere una decisione della Corte di Giustizia europea prima di emettere la propria pronuncia E queste insomma sono due sentenze che non dico che sono contrastanti ma da un punto di vista si dice Bisogna andare ad evidenza pubblica, subito perché sono scadute Però sappiamo che per fare le evidenze pubbliche ci devono essere all'interno di queste evidenze dei principi generali Sul tema dell'indennizzo c'è stato tanto dibattito Se agli stessi giudici si chiede allora per l'indennizzo loro dicono dobbiamo aspettare quel che dice la Corte di Giustizia Quindi come si fa ad andare ad evidenza pubblica? Non si fa, non si fa Cioè nel senso che è vero che i comuni stanno lavorando per creare queste regole In modo tale che domani il governo decide bene L'Europa non accetta il principio del bene scarso Quindi andiamo ad evidenza, facciamolo subito Diciamo che tanti comuni, anche lo stesso comune di Rimini Si stanno attrezzando proprio per valutare probabilmente quelle che saranno le regole delle evidenze E' un percorso che è iniziato Però fai fatica a pensare che quelle regole poi probabilmente potrebbero andare bene Per quanto hai inteso saranno realizzate le evidenze Cioè però mi sembra che veramente stiamo ragionando sul nulla Cioè potrebbe essere tutto giusto come potrebbe essere tutto sbagliato Questo noi lo diciamo sempre da persone inesperte della materia Quindi non abbiamo, non siamo né dei giusti Però a questo punto mi sembra che gli esperti non siano appunto Eh non siano, o meglio anche gli esperti non hanno gli elementi sufficienti Per procedere a creare il giusto itinerario Anche di uscita da questa situazione di impasso ormai abbastanza evidente Ma senza evidenze Nel senso che non abbiamo ancora gli elementi per creare l'evidenza Almeno stando, l'Europa ti dice un principio Ma se il governo non si può procedere E se c'è caos da anni su questo tema Ce n'è tanto più in campagna elettorale Quando poi le parti e le linee delle opposte parti Diventano ancora più muri di gomma Nel senso che c'è chi dice una cosa C'è chi deve dire l'opposto Resta il fatto che è un tema complicato Dove non si capisce dove arriva la normativa Dove arriva anche La propaganda Sì E anche alle volte Sembra anche delle questioni Non dico personali Ma sai che c'è sempre chi dice Ah ma i bagnini Però sappiamo anche che I bagnini al prescindere dai canoni Quanto pagano, quanto non pagano e quant'altro Sono comunque un servizio Senza il quale È difficile pensare ad un'estate in riviera Ah no certo In riviera come in tutte le altre riviere d'Italia Certo è che questa notizia che noi vi abbiamo dato Non è che l'abbiamo data solo a noi a livello locale Perché sono questioni tecniche No, ha fatto il giro d'Italia Su tutti i maggiori quotidiani nazionali In bicicletta Sino ma anche sulle piattaforme Sui social, in televisione Quindi immagino anche il turista medio Che magari di questa cosa Non si è neanche particolarmente mai interessato Perché riguardava una categoria E le problematiche di una categoria Come si ponga effettivamente Quando i titoli dei giornali sono Stop alle proroghe Le proroghe alla fine del 2024 Sono sbagliate Questo dice il Consiglio di Stato Si deve dare immediatamente Dare via le evidenze pubbliche Bene Questo è il periodo di interregno Visto che ancora le regole per le evidenze non ci sono Io vado in spiaggia Mi siedo e aspetto Come si d'arta Perché è vero che ci sono tanti Che apprezzano le spiagge libere Quindi la possibilità di andare Senza dover pagare Con il proprio asciugamano I lettini pieghevoli Gli ombrelloni e quant'altro Però io credo che la maggioranza Dei turisti Soprattutto quelli che vengono da noi Vogliono andare in spiaggia Fermarsi a mangiare qualcosa A fare l'aperitivo al bar Poi avere l'ombrellone E se hai bisogno chiedi al bagnino Evidentemente ci sono delle situazioni Che vanno al di là Di un caos normativo Che ormai è un caos ventennale Non credo ci sarà Però potrebbe anche esserci qualcuno Che dice bene Sapete una cosa Sto parlando da parte dell'operatore Baleare Questo è stato Io mi siedo Sullo sdraio E aspetto E non do servizi Sulla sdraio portata Proprio No no proprio Quello che ho stabilito Però Vuol dire che Devi togliere tutto quello che hai Ed è maggio Perché dopo c'è Pensa anche Alle strutture temporanee Come il gazebo E altre cose Che teoricamente I ciringhito O ciringhiti Che dir si voglia Vedremo Vedremo se qualcuno interverrà Alla giornata di ieri Nonostante Tutto era normale Sulle spiagge E gli operatori Erano impegnati Negli ultimi allestimenti Nonostante la giornata Non fosse delle migliori Sì Sono tutti al lavoro Sì sì Sono tutti al lavoro E nonostante Già la mattina Fosse un po' nuvoloso Fino a che non è iniziata A piovere C'era una marea Di gente in giro Io parlo di Rimini E tra l'altro Molto bello Non c'entra nulla Con il tema Che stavamo affrontando Sai che ci sono I campionati europei Di ginnastica Sì credo che ci siano Forse stanno Quelli maschili Ah ecco si Sono stati Quelli femminili Hai ragione Ho visto Delle ragazze Della nazionale francese Perché avevano comunque La divisa Che si stavano Riscaldando Allenando Lungo il parco del mare Nelle zone Dedicate agli allestimenti In piazzale Kennedy Dove ce n'è una molto ampia Eravano lì con gli allenatori Facevano le verticali Le aree spattive Eh sì È bello vedere loro Che utilizzano quelle aree In quel modo Io ero lì Con il mio mal di schiena E vedevo loro A testa in giù E ho pensato Bello Allora ci rimasti indietro Qualche saluto Andrea Lo facciamo a Sabrina Ad Antonio Che ci manda Il suo buongiorno Dalla collina Sempre bella La collina Dalla pianura Salutiamo con affetto Salutiamo anche Roberta Anche Roberta Buongiorno Anche a te Roberta Grazie A Lucy E Graziella Allora mi erano rimasti indietro Se allora fai Amici Amichetti Mi erano rimasti Bisogna salutare tutti Eh certo Eh buongiorno Scusatela È che anche lei Voleva fare il ponte E chi Tu Io No non proprio Il ponte rispetto a che cosa Che io ieri ho lavorato Ma c'erano tre notizie da mettere Ho capito Però sono stata lì davanti al computer Tutti i giorni Non ci crede nessuno Scoprire le notizie Non ci crede nessuno Tu sei andata Dove sono andata In stazione a Rimini A rimuovere le ultime bici rimaste Eh no Allora Tra lunedì e martedì Esatto Era stato ampiamente annunciato Sono stato È stato ripulito Tutto il piazzale della stazione Noi ci siamo andati Tra l'altro Il nostro Luca Ci è andato lunedì E ancora le bici erano lì Che fa anche rima Eh esatto Quindi abbiamo detto Ma forse hanno avuto Un po' di clemenza No una trentina di mezzi Adesso si trovavano nei depositi Della polizia locale In via della gazzella Ma abbiamo anche un servizio Abbiamo anche un servizio Sì Ciclista avvisato Mezzo salvato Forse il detto Non era proprio questo Ma sintetizza bene La situazione Come annunciato Nelle scorse settimane Dal comune Con tanto di campagna Di comunicazione Avvisi affissi in loco La polizia locale E gli addetti Antea Hanno infatti fatto pulizia In zona stazione a Rimini Rimuovendo le biciclette Parcheggiate fuori Dalle rastregliere O dagli appositi spazi Un'operazione decoro Ma non solo Visto che spesso i mezzi Erano anche di intralcio Ai pedoni Trenta bici Oltre a cinque rottami Sono state portate via Dalla riqualificato piazzale Cesare Battisti E trasportate in due depositi Di via della Gazzella Per 15 giorni I proprietari Potranno reclamare Le loro biciclette Contattando la polizia locale Al numero 0541 22666 E fornendo la descrizione Accurata del mezzo Per dimostrarne la proprietà Prevista anche la sanzione Per divieto di sosta I mezzi non reclamati Saranno poi spostati Al magazzino Dell'ufficio economale Dove i proprietari Dovranno presentarsi Con una copia della multa Notificata dalla polizia locale E a chi si chiede Dove poter parcheggiare Ora le bici in stazione Il comune ricorda Oltre alle apposite rastrelliere Anche il vicino bike park Con 160 posti Custoditi Anche perché Operazioni analoghe Saranno periodicamente ripetute Ciclista avvisato Mezzo salvato Forse Insomma 30 non sono poche Per cui Visto che alcune di queste Di cui parlavamo Probabilmente In queste immagini Ma come posso provare Che era mia Quella bicicletta Sai Non è proprio semplice E soprattutto Quanta è la multa Perché forse mi conviene Prendere una bici nuova No Secondo me no Perché uno ha la bici Già affezionato Dipende Dipende Però sai Magari le bici Che utilizzi Per andare in stazione Non è che sia proprio Quelle Che tieni sotto chiave Nella casa tua Sono quelle Sono quelle che girano Io sfido chiunque A lasciare la bici nuova Parcheggiata in stazione E infatti appunto Sarebbe un coraggioso No Sarebbe veramente un coraggioso Perché Qua almeno È la polizia locale E Antea Che te l'hanno portata via Nella maggior parte dei casi Comunque diciamo Se siete Non c'è nessun deposito Se siete arrivati in stazione Convinti Che la bici Fosse stata rubata Perché l'avevate lasciata lì Sappiate che Forse Potrebbe essere Tra quelle che sono state Metti che siete partiti Per il 25 aprile Volendo tornare il 2 maggio Siete arrivati al volo In stazione Lasciando lì la bicicletta Tornate Non c'è più Probabilmente non ve l'hanno rubata Ma è al deposito Esatto E se state ascoltando Tempo reale Potreste avere Una soluzione A tutti i vostri problemi Possiamo farvi la testimonia E dire che sappiamo Che è vostra la bici Ma lo facciamo Solo a certe condizioni A certe condizioni Procediamo Andrea Davvero Tempo scorre E quindi E quindi andiamo avanti Tempo scorre Fa una fretta Mamma mia Ma nessuna fretta Stai tranquillo Mamma mia Un giorno che sta a casa Gli si scombinano i bioritmi E' meglio se viene a lavorare Tutti i giorni No Guarda Anche no Stai meglio E' meglio se sto a casa Tutti i giorni Vengo una volta felice Ah ho capito Ci possiamo provare Anche a questa modalità Va bene Allora adesso Dimostriamo veramente Il lavoro E quanto lavora il direttore Abbiamo due servizi di fila Parti temi di cui non riesco assolutamente a scrivere Allora Diciamo questo Che E' un po' teso Non ha capito quale dei due servizi Ha capito? Il 30 aprile Il Palacongressi di Riccione La New Pala Riccione Hai detto la parola chiave Ha presentato il bilancio 2023 Tempo di chiusura di bilanci Per tutte le aziende Insomma vanno presentati ai consigli di amministrazione Nel caso della New Pala Riccione La New Pala Riccione Non ha un consiglio di amministrazione Perché c'è un amministratore unico Che è Leonora Bergamaschi E ha presentato questo bilancio ai soci Ha presentato il bilancio Quindi in particolare all'amministrazione comunale Un bilancio molto positivo Diciamo che è stata l'occasione Per Eleonora Bergamaschi Anche di spiegare Quale sarà il suo futuro Perché Nelle settimane scorse Ricordiamoci Era stato abbastanza dibattito Su quale sarebbe stata la sorte Proprio Della società Della New Pala Riccione Andrà verso un consiglio di amministrazione Ci sarà un rinnovo Chi sarà la nuova figura Allora Noi partiamo dal servizio Partiamo anche dai dati Del bilancio Della New Pala Riccione E poi eventualmente Qualche altra riflessione Proprio sul tema del futuro La facciamo insieme Il 2023 è stato Per il Palazzo dei Congressi di Riccione L'anno migliore Dalla sua inaugurazione Ormai 16 anni fa 76 eventi Per oltre 200 giornate occupate 38.400 partecipanti Per circa 80.000 presenze Un fatturato di quasi 5 milioni E un utile di 367 mila euro Un risultato che lo posiziona Tra le strutture leader Del settore congressuale Capace di attirare in città Ospiti al di fuori Della stagione balneare Non potevo sperare meglio Di concludere questo mandato Con un risultato Sia in termini numerici Ma anche qualitativi Come quello del 2023 Il Palariccione è stato Un mezzo Insieme anche L'attività sportiva Poi per uscire un po' Da quel provincialismo Mono balneare Che ha sempre caratterizzato Questa destinazione Il congressista Ha una capacità di spesa Rispetto al balneare Tre volte superiore Soprattutto in quei periodi Dove comunque Il family non sarebbe Diciamo il family Comunque il turismo balneare Non avrebbe Non avrebbe attività Quali sono i settori Che vi hanno dato Maggiore soddisfazione? Da un punto di vista Qualitativo Possiamo dire Sicuramente Il settore medicale Anche ospitare Grandi aziende Per convention Che scelgono Palariccione Come è stato Per esempio VR46 Come Algida Sono tutte Sono tutti per noi Insomma Motivo di orgoglio Dal suo arrivo Nel 2017 Quando ebbe Un incarico fiduciario Dal sindaco Tosi La Bergamaschi Ha dato vita Ad una struttura Manageriale Capace di accompagnare La crescita del palace Atteso ora Da sfide Ancora più importanti Resta da capire Chi sarà scelto Come amministratore unico Bergamaschi Si è infatti Resa disponibile Ad accompagnare Per altri sei mesi Il tempo perso Con il commissariamento La nuova leadership Ma poi Si congederà Da questa esperienza Adesso si apre Uno scenario politico Diciamo che il mio ruolo È sempre stato un ruolo Non politico Anche se espressione Della politica Ma un ruolo tecnico Che è partito Con il precedente sindaco E poi è riconfermato Dall'attuale sindaco Angelini Dal commissario Sono temi politici Che lascio fare A chi lo fa di mestiere Mi ha motivato In questi anni Ad accompagnare La pallariccione In questo processo Di crescita È stato sì Un'ambizione personale Ma anche Un grandissimo Senso civico Queste le parole Di Eleonora Bergamaschi Insomma È abbastanza evidente Poi l'abbiamo sollecitata Anche durante la conferenza stampa A capire se In qualche modo Di fronte Ad una proposta Particolare Ci fosse la possibilità Che lei continuasse Ma Ha fatto ben capire Che Arriva al termine Il suo mandato Anche perché appunto Se si vuole pensare Ad una crescita Della new pallariccione Lei in modo particolare Ha parlato Della possibilità Non tanto Di riempire ulteriormente Il pallariccione Perché sì C'è qualche margine Ma diciamo che Lì È stato già fatto Un grande lavoro Ma ad esempio Creare nuovi Rami d'azienda Come l'organizzazione Di eventi La new pallariccione Proprio In questi ultimi tempi Diciamo Dal commissariamente In avanti È stata anche investita Di questa possibilità Dell'organizzare eventi Non solo all'interno Del palace Ma anche fuori Però diceva Noi abbiamo una struttura Oggi molto esile Molto snella È evidente Che se quello diventasse Un ulteriore ramo D'azienda Bisogna fare degli investimenti Bisogna fare anche Un investimento In risorse umane Per cui Lei dice L'ideale sarebbe avere Una figura manageriale A tutti gli effetti Che possa fare questa cosa Mentre Visto che se n'era parlato Ma poi Insomma Anche da parte Della politica C'era stato un po' Una retromarcia Su queste ipotesi L'idea di un consiglio D'amministrazione È molto più complicato Per una struttura Come quella Della new palariccione Quindi bisognerà capire Chi sarà il nuovo Amministratore unico Sarà indicato Dalla politica Ma con che profilo Perché chiaramente Ci sono più Profili più politici E profili Più capaci Di fare manager Non è proprio La stessa cosa Ma se tu hai Una figura sola Evidentemente Devi fare una scelta importante Io Punterrei sui tecnici Ma visto per come è andato Direi di sì Cioè perché effettivamente C'è stata una crescita Importante Ci sono certe realtà Che devono Secondo me Essere gestite Da chi È del Del ramo Del mestiere Da chissà È ovvio che un politico Ha competenze Diverse Ma se devi scegliere Un'unica persona Hai un amministratore unico Difficile trovarne uno Che incarni Entrambe Le capacità Facciamo l'esempio Della realtà Della fiera Che chiaramente È all'ennesima Potere E però Allo stesso tempo Ha un'espressione politica Oggi comunque Maurizio Ermeti Che è stato riconfermato Presidente È l'espressione Della politica Il tecnico Che è l'amministratore delegato Che poi è Colui che Nel tecnico Va A verificare A prendere Le decisioni Di sua competenza Per la New Palarizzo Stiamo parlando di tutt'altro Cioè di una struttura Molto più snella Molto più snella Anche insomma Ci faceva presente La Bergamaschi Il piccolo gruppo Che comunque Ha gestito In questi anni Sono partite Anche di entrate E di uscita Magari anche Molto importanti Però poi A livello di bilanci Sono molto Anche Quelli Invece a livello di bilancio Dover creare Una struttura organizzativa Con un consiglio D'amministratore D'amministrazione Un amministratore delegato Un presidente Anche a livello economico Certo È un esborso Importante Per una struttura Che invece Più snella è Più riesce Conoscendo Riccione La scelta Del prossimo Amministratore unico Sarà tema Di dibattito Dai E lo dico Tu dici Così La metto lì Poi dopo vedremo Magari invece Sarà fatta Una scelta Su una persona All'unanimità Considera che La Bergamaschi Ha fatto questo percorso È stata scelta Dal sindaco Tosi Confermata La Riccione Ma sarebbe stato Strano il contrario Dal commissario Che anzi Ha puntato molto Proprio su questa Società Così come sulla Geat Per farsi aiutare In quei mesi Di interregno Diciamo così E poi la conferma Almeno per l'ultima fase Da parte Della sindaca Angelini Vedremo Vedremo Quale sarà il futuro Salutiamo Colomba Che ci manda Un volantino Invito E allora Noi Lo facciamo vedere Parliamo del palcoscenico Di primavera Al teatro Marilena Pesaresi Di San Lorenzo In Correggiano Venerdì 3 maggio Quindi domani Alle 21 Offerta libera Pro teatro E va in scena Mauro E i suoi amici Che presentano Non ci sono più Le mezze stagioni Musica popolare Musica leggera Poesia al femminile Poesia zirudella Musica classica E sketch Quindi una serata Per tutti i gusti Domani sera Alle 21 Teatro Marilena Pesaresi Perché i travel blogger Tra l'altro Sono professionisti Che ormai Hanno fatto Del mondo Dei content creator Il loro mondo E quindi La scelta È di promuovere Riccione in treno Che è un'iniziativa Che si fa da tanti anni Proprio tramite Travel blogger Che poi parlano Di questa realtà Quindi del muoversi Sostenibile Ma anche Della meta turistica In questo caso Riccione Nei loro blog Nei loro social Forse perché io Non ho dei social Faccio Effettivamente Questo potrebbe essere Un problema Vediamo il servizio Riccione in treno Sceglie i travel blogger Per promuoversi L'iniziativa Grazie alla collaborazione Tra comune E federalberghi Incentiva la mobilità Sostenibile Per raggiungere La meta delle vacanze Con una serie Di agevolazioni Per i turisti Dal rimborso Del biglietto Alla gratuità Dell'imposta di soggiorno I content creator Nelle pagine Dei loro blog Ma anche sui social Racconteranno Non solo il viaggio Ma anche La proposta turistica Credo che Riccione Abbia tante storie Da raccontare E secondo me Tante storie Da raccontare A seconda delle persone Che vengono Ormai non si è più Il discorso Di un target unico Famiglie Coppie I target sono sfaccettati È il momento Di fare vedere Le proposte diverse Che ogni persona Può scegliere Arrivando in città E raccontandole Con questo progetto Abbiamo un modo Di fare vedere La velocità Con cui si arriva La praticità Con cui puoi raggiungere Il tuo albergo Perché a piedi Ci arrivi in poco C'è la navetta C'è il metromare Che ti può portare Eventualmente in zone Un pelino Più distanti dal centro E raccontare Riccione È fondamentale Per farti innamorare Di una città Che negli ultimi anni Per una pubblicazione Di altri Che non possiamo gestire Ha vissuto Sui social media Un'immagine Che non corrisponde Minimamente alla nostra città E non se la merita Riccione Partita 19 anni fa Riccione in treno Ha saputo intercettare L'interesse Di tanti turisti Grazie a collegamenti diretti Con diverse città italiane Rispetto all'inizio Ovviamente Il pubblico È decuplicato Anno scorso Abbiamo ricevuto 5.000 richieste Nel corso della stagione Numeri importantissimi C'è da dire Che È sempre stata Un'iniziativa Molto apprezzata Ma l'apprezzamento Ha avuto aumenti esponenziali Sembra strano Ma dopo il covid Tra le città collegate direttamente Ci sono Torino Milano Bolzano E si punta ad avere presto Anche Roma Proprio da Milano Arrivano le prime due Travel blogger Chiara Cazzamali E il suo profilo Meglio un posto bello E Francesca Guatteri Che dispensa I suoi follower Suggerimenti di viaggi Ed esperienze Eno gastronomiche Ci siamo divertite tantissimo Noi siamo colleghe Ma anche amiche Soprattutto amiche Quindi È stata una vacanza Per due amiche E abbiamo trovato Tantissime cose Allora che abbiamo anche a Milano È vero Però forse qui Con una maggiore facilità Poi c'è il mare E poi c'è il mare C'è il mare Cioè il mare È la bellezza vera Fa la differenza Sì Sì E quindi tutto È stato meraviglioso Lo shopping I pranzi Le cene Le passeggiate sul mare La bicicletta La pista ciclabile Perché anche quello A Milano È un po' più complicato È vero E quindi è stato tutto Molto facile Ecco io credo che Noi milanesi Abbiamo bisogno Di cose facili Quando partiamo A Milano Noi facciamo Cioè Viviamo Dobbiamo ottimizzare E quindi il viaggio Corto Fa la differenza Nella scelta di una meta Corto è prevedibile anche Perché in macchina Tu parti e non sai Quando arrivi E poi oltretutto A volte tendi a rinunciare A determinate mete Perché le vedi lontane Il fatto di ottimizzare I tempi Ti permette anche Di considerare Riccione Per un weekend E non necessariamente Per un periodo più lungo Dopo il karaoke Che è stato eccezionale Perché noi siamo Due amanti Io sono personalmente Molto fiera di me Per la bicicletta Perché non ci salivo Da quattordici anni Ed è vero Che non si smette mai Cioè non si disimpara mai Quindi sì Beh abbiamo anche mangiato E bevuto molto bene Questa è un'altra priorità Quando si viaggia No? Sì E poi appunto Il fatto di essere Tornate al mare Per noi che siamo Abituati al grigiore Di città È stato davvero Un regalo Nelle prossime settimane Sono in arrivo Altri content creator Esperti di viaggi Per famiglie Per i più piccoli Per i giovani Ma anche appassionati Ad itinerari insoliti Ma guarda te È il tuo lavoro È il tuo lavoro Sì in effetti È un bel lavoro Devo dire No Matteo Cosa pensi? Cioè vai in giro Ti fanno fare Un sacco di esperienze belle Ti portano Nei luoghi più suggestivi Di una città Mangi bene Dormi in posti carucci Non è male come lavoro Poi per carità Ogni lavoro È faticoso Condurre quattro hotel Dovresti condurre quattro hotel? Sì Ma che esperienza hai Alla base Per condurre quattro hotel? Nessuno Io mi accontento Di qualsiasi Quattro hotel Non ho detto Quattro hotel Cinque stelle Quattro hotel A casa Basta che mi portano Comunque insomma Se Trato Io ho scoperto Che ad esempio Il milanese Tradizionale Non viene in vacanza Dalle nostre parti Ma va in vacanza In Liguria Per il milanese La vacanza facile È la Liguria Forse Dopo Quello che vedranno Piacere vincere Facile Grazie A quello che hanno fatto Le due content creator O travel blogger Quattro hotel Voi mi portate Da qualche parte Io dormo Vi do sempre Cinque stelle Dormo Vado in giro Sì Va bene Però me e famiglia Ah Tu e famiglia No Però quando si lavora Non è che si può andare Con la famiglia No scusa Io faccio uno spin off Quattro hotel con famiglia Con il conduttore Con la famiglia Esatto Ah perfetto Molto bene Andiamo ancora avanti Torniamo un attimo Sai che c'è un allerta meteo? Eh l'ho vista Sì ma non è che tocca Proprio noi È più la parte Però devo dire Che ho guardato Le previsioni del tempo Piove oggi Sì piove Anche domani O forse dopo domani Vabbè comunque magari Poi andiamo a darci un occhiato Alle previsioni del tempo Che un po' di voglia Di primavera C'è Si vede nelle persone Che nonostante Il meteo ballerino Ieri praticamente Erano tutte fuori Poi alle due del pomeriggio Quando ha cominciato a piovere Tutti a raccogliere Sono andati a cercare Un rifugio Allora Torniamo a parlare di lavoro Torniamo alla festa Del primo maggio Lo facciamo tramite Tre testimonianze Che vi proponiamo Quella sera Sono state quattro Perché Sempre la diocesi di Rimini In particolare L'ufficio di pastorale sociale E l'ufficio Di pastorale giovanile Insieme al progetto Policoro Hanno organizzato Una serata Per ascoltare Testimonianze Di lavoro Come vocazione Hanno parlato Diversi giovani Persone meno giovani Che hanno portato La loro esperienza Vi facciamo ascoltare In modo particolare Claudio Gianni Claudio è un diacono Della nostra diocesi Come mestiere fa Il tipografo È un artigiano E si è inventato Una cosa molto bella Cioè di portare Il suo laboratorio Di tipografo All'interno Del centro Zavatta Delle acri Proprio con un progetto Delle acri In un centro Socio-occupazionale Quindi è stata Una bellissima esperienza Questo ci ha raccontato Poi ascolteremo Alvaro Zavaglia Alvaro Zavaglia È il fondatore Della Golfera Quindi insomma Di una grande azienda Che impiega Circa 300 persone Lui ha 92 anni E ancora tutti i giorni Va in azienda E oggi viene guidata Dai figli Insomma comunque Però per lui È fondamentale Questa esperienza Ancora di lavoro Quindi insomma Veramente L'ha vissuto il lavoro Come vocazione Poi ascolteremo Anche la voce di Matteo Lessi Che invece È responsabile Della comunicazione Di un'altra grande azienda Fondata Da una persona Insomma Che probabilmente Della pasta Dello stesso Alvaro Che è stato Vittorio Tadei E Matteo Lessi Appunto fa L'addetto Della comunicazione Di questa grande azienda E hanno portato Alla bella assemblea Che si è riunita In sala Manzoni Le loro testimonianze Sentiamo La scelta Un po' è nata Appunto Comprendendo Come il mondo Del lavoro Metta un po' da parte Parte del mondo Ecco quindi Così Si è iniziato Con l'aiuto Naturalmente Di altri Mai nulla Si fa da soli Si è iniziato Questo percorso Questo progetto In cui Sostanzialmente Ragazzi Di un centro Socio-occupazionale Sono stati coinvolti Nel lavoro Di un'azienda Nulla di più Questo è quello Che potevo fare Tutto quello Che mi sentivo Di poter fare L'ho fatto Proprio perché Appunto Sono Amici Amiche Che hanno saputo Spendere Le loro abilità E aiutare Veramente Veramente Con Abilità Che ognuno Ha diverse Che ognuno Ha nel Proprio Bagaglio Di vita E così Sono Entrate Nel mondo Del lavoro Anche Grazie A questo Progetto Se un imprenditore Giovane Che mi chiedesse Cosa Deve fare Come ho detto Prima Direi Coinvolgi Fai sentire Il piacere E il calore umano Aiuto Quando puoi Fai in modo Il buon padre Di famiglia Perché questo Viene recepito Perché tu Da solo Se vuoi crescere Non fai niente Tu hai bisogno Di avere Buone idee Avere i mezzi O dove prenderli Mai bisogno Poi di realizzarli Questi progetti E per realizzare I progetti Si realizzano Solo Se c'è una bella squadra Una buona squadra Credo Che nel lavoro Si possa Realizzare Se stessi Ma anche Dare un grosso Contributo Alla società La mia vocazione Credo che sia Innanzitutto Costruire me stesso Scoprire quello Per cui Uno è fatto Per quello Per cui uno È stato chiamato E messo al mondo E il lavoro È un'occasione Decisiva Per scoprire I propri talenti Scoprire le proprie Caratteristiche Scoprire tutto Quello che uno Può dare A una realtà Che uno si trova Un po' a dover Maneggiare Che poi gli è donata Gli è regalata Da qualcuno E credo che L'altro ambito Di vocazione Sia quello di Capire un po' Che senso ha il lavoro E come Il contributo Che uno può dare Al mondo Attraverso di esso Mai il lavoro Pensato solo Per se stessi Questo è quello Che un po' Hanno trasmesso Tutte le persone Che sono salite Sul palco C'è stato anche Il nostro Vescovo Nicolò Che ha parlato Proprio del lavoro Per i giovani Come vocazione Così come Era emerso Proprio anche In un importante Messaggio Che ha letto Proprio all'assemblea Quella sera Di Papa Francesco Per cui insomma Una bella serata Molto partecipata Che ha dato avvio Poi a tutte le iniziative Del primo maggio Presenti Somma tante persone Compresi anche Le rappresentanti Dei sindacati Per cui credo insomma Che queste proposte Della diocese Siano anche sempre Quest'occasione Di allargare lo sguardo A più realtà Che sono tese tutte Ad un bene comune Che è proprio legato Anche al mondo Del lavoro Parliamo ancora Di lavoro Per dare invece Una notizia Legata Ad un accordo Che è stato trovato Per una importante azienda Della nostra provincia E non solo Perché l'attività Si estende anche Nel Perugino E anche a San Marino Parliamo della Cotes Che ha annunciato Nei mesi scorsi L'accessazione Dell'attività Poi un precedente Accordo ormai Chiuso quasi Con i sindacati Era saltato Ma adesso Sembra si sia trovata Finalmente la quadra Anche per tutelare I lavoratori Sentiamo il servizio Fumata bianca Tra FIOM CGL E Cotes Il sindacato e l'azienda Dopo sei ore di trattativa Sono giunti Lo scorso 24 aprile Alla definizione Di un accordo Per la salvaguardia Dell'occupazione E la tenuta sociale Dei lavoratori La Cotes Azienda impegnata Nelle telecomunicazioni Nel cablaggio Di fibre ottiche Nei territori di Rimini San Marino E Perugia Era arrivata Ad occupare complessivamente Fino a 100 persone E aveva dichiarato Lo scorso febbraio La cessazione Dell'attività Poi a marzo Aveva fatto saltare L'accordo Ormai raggiunto Con la CGL Un accordo Che ora si è invece trovato Ed è stato approvato All'unanimità Anche dall'assemblea Sindacale Dei dipendenti Previsto L'invio Della domanda Di cassa integrazione Straordinaria Per gli esuberi Per la durata Di un anno L'avvio Delle procedure Per l'intesa Con la regione Per l'assegno Di ricollocazione E infine Un'incentivazione Economica Per chi Permarrà In azienda Sul piano economico Saranno saldate Invece Tutte le competenze Di fine rapporto Senza alcuna rateizzazione Mentre il TFR Sarà anticipato Mensilmente A partire Dall'avvio Della cassa integrazione Un sospiro Di sollievo Per i dipendenti Che dopo L'accordo saltato Lo scorso marzo Avevano indetto Lo stato D'agitazione E le immagini Infatti Si riferivano Ad un presidio Davanti alla sede Dell'azienda Andato in scena All'indomani Della decisione All'epoca Dell'azienda stessa Di far saltare Quell'accordo Poi L'accordo È stato Risiglato A questo punto Ufficialmente In linea Con quello Che in precedenza Invece Non aveva trovato Il via libera Definitivo Quindi una buona notizia Per tutti i dipendenti Un centinaio Della società Dell'azienda Adesso parliamo Invece di noi Parliamo di un appuntamento In programma Questa sera Come sempre Alle 20.35 Quello dedicato Alla sanità E alla salute Con Lucia Renati Che questa sera Come ospite L'immunologo Riminese Giacomo Gorini Che ha fatto parte Del gruppo Che all'università Di Oxford Ha sviluppato Il vaccino Anticovid Lo ricorderete Anche tante interviste Sui quotidiani Distribuito da AstraZeneca Gorini Ha parlato Dei suoi ultimi Due anni in Italia Cercando di realizzare Il suo progetto Aprire un'azienda Farmaceutica In grado di poter Studiare e produrre Nuovi farmaci Antitumorali Un progetto Che però In Italia Non è andato in porto E quindi Sarà costretto A tornare ad Oxford Dove invece Ha trovato finanziatori Che hanno deciso Di investire In lui E sulle sue Sul suo progetto E allora Sentiamo uno stralcio Dell'intervista Poi questa sera Ovviamente Alle 20.35 La puntata In integrale È stata una grande sfida Anche perché Il nostro paese È difficile Quando si vuole fare Innovazione tecnologica E all'interno Delle tecnologie Le biotecnologie Sono ancora più Costose E complicate E noi non siamo pronti In Italia? Nella mia esperienza No Le ho provate tutte In questi due anni Dopo quando Mi si è delineata Un'offerta all'estero Ho deciso Di accettarla Perché direi Che due anni Sono un tempo Sufficiente Per verificare Se può crescere Nascere E crescere Qualcosa Nel nostro paese E dopo tutto Io devo fedeltà Per aiutare Le persone Al mio progetto Non al territorio Quindi con una nota Di rammarico Riparto Ma sono molto felice Di poter finalmente Iniziare gli esperimenti Su questa Su questi studi Che io amo Essere in grado Di poter aiutare Quando c'è un problema Un grosso problema E nel mio caso Era essere in laboratorio E lavorare Soprattutto con le mani Che non tremavano Quello è ciò Che mi colpiva veramente Lì ho capito Quelle mani ferme Era Erano il motivo Per cui Avevo studiato Tutti quegli anni Quello che non ha funzionato Nella gestione Del Della campagna relativa Al vaccino Di AstraZeneca È la comunicazione Ma non parlo solamente Di comunicazione Da parte dell'azienda Degli scienziati Io penso che ci siano stati Più livelli Di responsabilità E che cosa ti manca Di casa Quando sei lontano? Mi manca Una cosa Che può sembrare Da poco Mi mancano le campane Quando io sono qua Di Rimini Quando verso le sette Le otto Suonano le campagne Della chiesa Dei servi Vicino al ponte Di Tiberio Che mi ricorda Che sono a casa Vicino Alla mia famiglia Ai miei affetti Ai miei amici Al mio cibo Ai miei spazi E quindi Quello è proprio È il momento Di gratitudine È il momento In cui mi accorgo Di essere a casa È una bella storia Che peccato Quando si dice Ceravelli in fuga No? Eh no Anche perché Perché fuggono Ecco Ecco spiegato perché Anche perché lui ci ha provato A restare in Italia Portare avanti Il suo Il suo progetto Poi chiaramente Noi ascoltiamo La sua storia Se la volete ascoltare Con maggiori dettagli Questa sera Alle 20.35 Poi vi ricordiamo Subito dopo Un altro Importantissimo Appuntamento Perché c'è la seconda Semifinale Della campanella E quindi Questa sera Vedremo L'un contro L'altro Armati Credo il liceo Einstein Contro l'istituto Alberti Se non sbaglio Alberti contro Einstein Sì E quindi vi aspettiamo A partire dalle 21.15 Con questo importante Appuntamento Della campanella Direi una bellissima serata Quella proposta Ma quale Quale non è bella Quale Quale Ma poi la serata Ma la mattina Ma il pomeriggio Ma ne vogliamo parlare Ma la notte Non so cosa vai notte Forse la notte La notte Noi Non so che ne veniamo ancora noi Se andiamo ancora noi Anche di notte Perché alle 2 Le 3 del mattino Dice buongiorno Facciamo le lezioni di fisica Di notte Quelle lì Andavano un sacco Qualche anno Con la lavagna Il gesso Esatto Infatti Allora Siccome prima hai detto Che ci sarà un allerta meteo Che però non ci riguarda da vicino E noi ne siamo felici Però Noi siamo molto dispiaciuti Per il resto della regione Che però potrebbe decidere Di venire verso oriente No Vanno in Cina No Venire verso la riviera Se proprio è brutto brutto Da una parte occidentale Allora grazie all'ausilio Dei nostri potenti mezzi tecnologici Nonché di Arpae Emilia Romagna Vediamo la cartina Questa è la cartina Del mattino di oggi Che infatti ci mostra Come la zona più Occidentale Della nostra regione Si è interessata Da nuvole E pioggia Che poi nel corso Della giornata Potrebbero arrivare Anche sulla costa Perché vediamo Che il tempo Sarà fortemente variabile Con qualche goccettina Di pioggia Sia nel pomeriggio Che nella notte Invece la situazione Dovrebbe migliorare Questo per quanto riguarda La giornata di oggi È giovedì Giovedì 2 maggio Andiamo a dare uno sguardo Alla giornata di domani Poi non ci spingiamo oltre Anche sabato Dai Anche sabato Al mattino Condizione di spiccata variabilità Questa è la previsione Con precipitazioni sparse Localmente A carattere di rovescio Che a quanto pare Riguarderanno però Una zona abbastanza limitata Del territorio Sulla costa Stando a queste previsioni La pioggia Non dovrebbe spingersi Esatto Quindi fermarsi Diciamo sul primo appennino Poi arriva il fine settimana Poi arriva il sabato Io lavoro Quindi potrebbe anche piovere Ma in realtà no Perché sembra che Il tempo sia tutto sommato La mattina Nuvolosità variabile Addensamenti temporaneamente Più consistenti Locali Precipitazioni Però Minime Che restano Abbastanza bassine 7-11 gradi Le massime Si possono spingere Fino a 21 La situazione al mattino Al pomeriggio E alla sera Resta più o meno identica Con un cielo Che passa Dalle nuvole Al sole Variabilità Ma d'altra parte Non c'è nulla di certo E quindi anche il meteo In qualche modo Va incontro a questa nostra variabilità Noi siamo arrivati in conclusione Ma guardate come vuole il tempo Quando ti si diverte Infatti questa mattina Ti sei divertito tantissimo Ma me la sono spassata È vero E un buongiorno anche a Massimo Intanto Grazie Massimo Di tuo saluto Noi arriviamo in conclusione Al nostro appuntamento Contemporale Che torna puntuale A tenervi compagnia Nella giornata di domani Quindi vi aspettiamo Attorno alle 9 Adesso pochi minuti Diciamo che magari La pausa Non sarà Solitamente Lunga Come Invece si Si tutta Facciamo una cosa Proprio diversa 10 e mezza Parte Faccio cose Veramente Quindi Se avete due faccendine Da fare a casa Avete Vi manca qualcosa Per questa sera Dovete andare Da prendere il volo Uscite velocemente Mezz'oretta Negozi sotto casa Prendete Tornate in casa Riaccendete la televisione O la radio E ascoltate Faccio cose Vedo gente O vedete Faccio cose Vedo gente Con quei due pezzi Di conduttori Cosa sta dicendo No nel senso Che sono anche dei bei ragazzi Che sono Max Alvericci E Matteo Monaretto Bene Noi salutiamo Le signore Alla visione Magari hanno bisogno Ma certo Ma assolutamente Ci ritroviamo domani Vieni domani No perché il venerdì Mi hanno detto Che sono puntate Polazzi Free Ah sì E quindi io Mi sono organizzato Diversamente Se non lo vedete Sappiate il motivo La sigla c'è già Usiamo la sigla Esatto Fa sapere per tempo Buona giornata a tutti Tempo reale L'informazione in diretta Della provincia di Rimini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti